Ieri mattina il sindaco di Matera, Salvatore Adduce, ha incontrato i ragazzi dell'orchestra della scuola media Nicola Festa per congratularsi del successo ottenuto alla sesta edizione del concorso internazionale di esecuzione musicale Città di Airola vincendo il primo premio per la categoria B riservata ai ragazzi della sezione scuole medie e licei ad indirizzo musicale con votazione di 96 su 100 grazie ad un'apprezzata performance svoltasi nel gremito teatro comunale del Borgo Caudino ottimi risultati sono stati ottenuti anche nella categoria solisti ad accompagnare gli studenti ad Airola la coordinatrice della sezione musicale direttore dell'orchestra della scuola l'insegnante musicista Lucia Giampietro